Il canto undicesimo del paradiso di Dante Alighieri si svolge nel cielo del sole dove risiedono gli spiriti sapienti. Siamo alla sera del 13 aprile del 1300 o secondo altri commentatori del 30 marzo del 1300. Questo canto è simile al successivo in quanto entrambi parlano di un ordine religioso, lodandolo per le sue origini ma lamentando la sua decadenza presente. Qui è San Tommaso d'Aquino, frate dell'Ordine Domenicano, che descrive prima la vita di Francesco d'Assisi, fondatore ovviamente dell'Ordine Francescano, poi la decadenza dell'Ordine Domenicano al quale egli, appunto Tommaso, è appartenuto. Nel canto successivo, cioè nel dodicesimo canto, avverrà invece l'opposto, cioè Bonaventura da Bagno Regio, frate Francescano, loderà San Domenico, fondatore dell'Ordine Domenicano, e parlerà della decadenza dell'Ordine a cui appartiene lo stesso Bonaventura, quindi quello francescano. Ripensando all'emozione indescrivibile provata nel cielo del sole, Dante, nei versi dall'1 al 12, condanna coloro che si affannano per le cose terrene. Ad esempio, alcuni si dedicano agli studi giuridici, altri alle scienze mediche, altri all'ottenimento di cariche ecclesiastiche, altri ancora ricercano invece il potere politico, il piacere carnale o l'ozio, dimenticandosi di pensare all'eterna gloria celeste. Molto belli i versi dall'1 al 3, soprattutto il terzo, o insensata cura dei mortali, quanto sono difettivi silogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali, chiuso le virgolette. I versi dal 13 al 42 invece raccontano i dubbi di Dante, e vedremo di quale dubbio si tratta, di quali dubbi si tratta. Quindi la corona dei beati spiriti, dopo aver compiuto nuovamente un giro di danza, si ferma. San Tommaso, aumentando il proprio splendore, dice che leggendo nella mente di Dio conosce i pensieri di Dante e sa che egli dubita riguardo a due sue affermazioni, esposte da Dante nel canto precedente, cioè il decimo. Il primo dubbio nasce dal verso 96, ovviamente sempre del decimo canto, che recita U ben si impingua se non si vaneggia, che parafrasando significa dove ci si arricchisce di beni spirituali se non si devia dalla regola. Il secondo dubbio è collegato a quanto San Tommaso dice nel verso 114, sempre del decimo canto, cioè il canto precedente a questo, ricordiamocelo bene, aperte virgolette, a veder tanto non surse il secondo, chiuse le virgolette, che riferito a Salomone significa non ci fu un uomo più saggio di lui. In questo canto verrà chiarito soltanto il primo dubbio, cioè quello del verso 96, U ben si impingua se non si vaneggia, mentre il secondo dubbio verrà trattato nel canto tredicesimo. Il tema di fondo di questo canto è l'intervento della provvidenza in favore della Chiesa, che tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo era in preda a una grave crisi, sia morale sia dottrinale. Tommaso dice che per volontà della provvidenza proprio in quel periodo nascono Francesco e Domenico, fondatori degli ordini religiosi ispirati rispettivamente alla carità, quello di Francesco, e alla sapienza, quello di Domenico. Il loro compito e il loro valore sono uguali, quindi il compito e il valore dei due ordini, cosicché, lodandone uno, si esprime implicitamente anche la lode dell'altro. Dai versi 43 a 117, Dante, per bocca di Sant'Omaso, fa l'elogio di San Francesco. Quindi San Francesco, su cui, nei decenni successivi alla sua morte, avvenuta nel 1226, era fiorita una ricca agiografia. Agiografia è la letteratura relativa ai Santi e la critica a questa stessa letteratura. E questa agiografia si era diffusa anche a livello popolare. Dante, però, sceglie di distaccarsi dalla geografia tradizionale e non menziona i celebri episodi della predica agli uccelli e del lupo di gubbio ammansito. Ma, tramite le parole di Tommaso, ripercorre i momenti salienti della vita di Francesco, costruendo un'analogia tra lui e Cristo. In primis, la scelta del santo di Assisi, che, giovanissimo, si scontra con suo padre per una, tra virgolette, donna. Questa donna è, in realtà, la povertà. Quindi si scontra con suo padre, rifiutando i beni paterni, per unirsi in matrimonio con questa donna, la povertà, lo ripetiamo, che era rimasta privata del primo marito, cioè vedova di Cristo. Quest'unione, così sorprendente e ricca d'amore, suscita in altri il desiderio di imitarla, portando alla nascita di un piccolo gruppo di frati, che riceve un primo riconoscimento verbale da parte di Papa Innocenzo III, e poi successivamente, nel 1223, un secondo più significativo segno da parte della Chiesa, con Onorio III che sancisce la Costituzione dell'Ordine, l'Ordine Francescano, ovviamente. Poi Tommaso continua, parlando del tentativo di Francesco di diffondere il cristianesimo in Egitto, e, dopo aver fallito in questo suo compito, torna in Italia, dove sul Monte Verna riceve le sacre stigmate due anni prima della sua morte. L'elemento più importante che caratterizza il pensiero e le opere del Santo di Assisi, nella visione di Dante, è certamente la povertà, non a caso indicata con l'iniziale maiuscola. povertà che è sposa di Francesco, e, undici secoli prima, era stata sposa di Gesù Cristo. La povertà deve essere quindi una qualità essenziale della Chiesa, e di conseguenza l'idea che la povertà sia rimasta vedova di Cristo, indica che la Chiesa aveva deviato dal proprio compito storico, allontanandosi dal modello delle origini. Per Dante, quindi, Francesco rappresenta in modo eroico la lotta contro la cupidigia, causa prima della decadenza della Chiesa e di tutta l'umanità. Proprio perché la sua lotta è eroica, Dante lascia in ombra un tratto determinante dell'ordine francescano, cioè l'umiltà. Nei versi dal 118 al 139, Dante ci parla della decadenza dell'ordine domenicano. Quindi, dopo aver ricordato l'eccezionale vita del santo di Assisi, Tommaso elogia anche San Domenico, giudicandolo degno successore di Francesco. Domenico era ovviamente il fondatore dell'ordine domenicano, cui Tommaso apparteneva. Al tempo di Dante, però, i Domenicani avevano perso lo spirito che aveva animato il fondatore dell'ordine. E da qui il dubbio di Dante sulle parole dello stesso Tommaso nel verso 96 del decimo canto, u ben si impingua se non si vaneggia. Ecco. Quindi, lo stesso Tommaso chiarisce questo dubbio dicendo che i Domenicani sono come pecore che ingrassano solo quando non si allontanano dalla regola del fondatore per cercare pascoli diversi, cioè i beni terreni. Tommaso dice che certamente ci sono ancora alcuni Domenicani che seguono i dettami di San Domenico, ma sono pochi. Infatti, nei versi 130 e 132, molto belli, secondo me, cioè dal 130 al 132, aperte virgolette, ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma non si poche, che le cappe fornisce poco panno. Cioè, sono così pochi che serve poco panno a confezionare le loro cappe. Bene, questo video termina qui. Spero vi sia utile. Come sempre, vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao a tutti.